Come fiume che scorre, respira, scopri e vivi è il progetto presentato in mattinata nella sede della Confcommercio Cremona e premiato dal Ministero del Turismo con oltre un milione di euro. Un progetto che coinvolge sette comuni del territorio con capofila Isola Dovarese e prevede la costruzione di percorsi turistici per la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del cremonese e anche la realizzazione di infrastrutture quali un parcheggio, un centro culturale, una foresteria e un punto ristoro, un infopoint ristorante e su tutti i comuni attrezzature per favorire la mobilità lenta. Crediamo che la sinergia tra pubblico e privato possa essere un grande volano anche per l'economia territoriale. In questo caso si sviluppano territori che vengono classificati in via di desertificazione. Con questo riconoscimento che è stato il progetto primo in tutta Italia pensiamo che questo genere di visione da parte degli enti pubblici possa cambiare e noi possiamo raccontare un territorio che è meraviglioso. Partiamo quindi dall'idea di spingere verso la ciclo mobilità, il cicloturismo e questo inizia in realtà con i distretti del commercio, con la cultural bike experience grazie al quale stiamo mappando più di 900 chilometri di piste ciclabili tra 36 comuni della provincia di Cremona. Prende poi il progetto come fiume che scorre che valorizza esperienze culturali ed immersione in natura lungo i corsi d'acqua. Raccolto una sinergia importante a livello nostro di comuni sotto la regia di commercio e con il supporto delle istituzioni.